Il lavoro è stato utile, specialmente la sosta che ci ha permesso di lavorare seriamente su cose che abbiamo già detto anche prima della partita del Sion. Su tanti meccanismi, giocando in questo momento 3-5-2. Io penso che sono andati con l'ultimo arrivo di Beppe Colucci a completare un po' qualche nostra mancanza che evidentemente avevamo, più che altro da un punto di vista oltre che qualitativo ma di personalità. Ora speriamo di riuscire ad integrare velocemente perché purtroppo sono tre giocatori che stavano nettavelmente giocando poco in loro squadra quindi al top ancora non possono essere. Però penso che già il fatto che ci possono essere a disposizione e la loro presenza, non so se tutti dall'inizio in campo già da sabato, spero possa dare una svolta da un punto di vista caratteriale alla squadra. A tutti quei ragazzi giovani che abbiamo sempre detto che sono cresciuti tanto ma che forse hanno bisogno ancora di un qualcosa in più per fare il salto definitivo. Antonazzo Di Michele Colucci, hai parlato di esperienza e appunto carisma ma individualmente qual è l'apporto che ognuno di loro potrà dare a questa regina? Quello che io mi spero, quello che per ognuno di loro facendo una veloce analisi di quello che abbiamo fatto con la società per quanto riguarda Davide e Di Michele, siamo onesti, gol. La qualità sottoporta che onestamente un pochettino ci è venuta a mancare rispetto a tutto quello che abbiamo creato fino adesso, il rapporto gol-occasioni create c'è troppa differenza. Per quanto riguarda Beppe, Colucci penso un po' di personalità in mezzo al campo che non significa aspettarsi da Colucci le giocate, chissà quali giocate mentre importa per forza i nostri attaccanti direttamente dalla posizione in cui gioca. Ma nella gestione soprattutto del pallone in mezzo al campo, in alcuni frangenti abbiamo perso troppi palloni, troppe palle perse facilmente che hanno permesso ai nostri avversari di ripartirsi e a volte farci male. Quanto riguarda Angelo, Angelo forse è un giocatore, abbiamo sempre descritto una metà tra Melare ed Alessandro. Ad Angelo mi aspetto continuità di rendimento, attenzione alla fase difensiva, non c'è da aspettarsi dribbling o chissà quali giocate perché Angelo è un corridore di fascia, è un rizzato con una stazza atletica più alta, un lineare, un faticatore. Quindi quello che un po' forse ci mancava, quindi questo è quello che ci aspettiamo da questi tre giocatori, ma io penso che tutte e tre insieme in più dovranno aggiungere un qualcosa di personalità a questo gruppo. Andiamo alla gara con la Provercelli. Intanto i tre nuovi arrivati, hai intenzione di convocarli tutti e tre o agirei diversamente? No, convocare tutti e tre. Ora stiamo valutando le condizioni più alto atletiche perché Colucci oggi non si è ancora allenato con noi, è stato con noi oggi ma ha fatto solamente un lavoro atletico perché ieri ha viaggiato tutto il giorno. Davide sicuramente sarà dalla partita, di Michele dall'inizio perché al di là che non ha ancora proprio il ritmo dei 90 minuti però onestamente sta bene. E Angelo Antonazzo, anche lui viene da un periodo di poca attività, quindi vediamo se schierarlo immediatamente o dargli ancora una settimana per poter essere al meglio. Un'ultima considerazione a questo punto sulla Provercelli, una squadra che ha rinnovato molto e che rilancia la propria candidatura in questo campionato. Una partita subito ha il valore importante perché la classifica parla chiaro. Qual è il tuo timore in vista di questa gara? Cosa ti aspetti? Che partita sarà? A partita per loro penso cruciale perché una sconfitta, penso che non dico che complicherebbe del tutto, forse o perlomeno in grossa maniera il cammino salvezza perché poi sarebbero ancora la seconda di ritorno con 15 punti e la salvezza se si gira quota 6 a 50 dovrebbero fare 35 punti. Mi preoccupa il fatto che hanno cambiato mezza squadra, quindi non è più la Provercelli del giorno d'andata, quindi anche andare a ipotizzare il sistema di gioco che andranno a utilizzare perché per i giocatori acquistati sicuramente cambierà. Mi aspetto una squadra nuova e quindi questo è il più grosso problema che si andrà a incontrare, però insomma dobbiamo andare là a fare la partita a corta, cercando di far male quando tutte le domeniche ci capitano occasioni per far male. Quindi di sfruttarli, ma partita vera, partita si riprende, sperando di fare una buona prestazione sulla falsa riga. Io vorrei partire dai primi 60 minuti di Empoli, nonostante si è preso gol sul rigore perché secondo me sono stati i 60 minuti giocati bene.